I giorni, gli anni, più Putin diventa paranoico, un concentrato di violenza e impotenza che fa paura. L'attentato degli estremisti islamici al Crocus City Hall è usato dal boss del Cremlino e dai suoi sottoposti come arma di propaganda. I mandanti sono gli ucraini, aiutati da americani e inglesi. E non importa se un vassallo di Putin come Lukashenko non rispetta il copione e smentisce la versione di Mosca. Ciò che conta è continuare a manipolare, depistare. Anche se il contratto con i cittadini russi, sicurezza in cambio di libertà, che in parte spiega l'87% alle recenti presidenziali, ha subito un duro colpo con la strage. Alexei si sarebbe unito al lutto per questa tragedia e avrebbe fatto le condoglianze per tutti i morti, che riposino in pace, dice la mamma di Navalny, circondata da tante persone ieri al cimitero. Dal 16 febbraio, giorno della morte, non si è mai interrotto l'omaggio all'oppositore numero uno di Putin, che Biden torna a definire un macellaio per l'attacco all'Ucraina. Washington è preoccupata di delimitare il conflitto. Difenderemo ogni centimetro della NATO, dice il Pentagono, dopo che un missile russo, qualche giorno fa, ha violato lo spazio aereo della Polonia. Mentre la Banca Mondiale ha approvato un prestito all'Ucraina da un miliardo e mezzo di dollari. Più armi, più soldi, ma qualcuno non rinuncia a negoziare. Noi dobbiamo fare di tutto per evitare una sconfitta dell'Ucraina, però con gli strumenti della pace, del dialogo e dei trattati, dice il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Gallagher.